Giornata convulsa ieri nella frazione di Rosara dopo una serie di furti in abitazione compiuti la settimana scorsa. Ben cinque le denunce da parte dei malcapitati che hanno portato i carabinieri a dei servizi di controllo anche in borghese alla ricerca degli autori del raid. I militari appostati in diverse zone hanno individuato un motociclo con targa straniera contraffatta con a bordo due persone che sfuggita ad un primo posto di blocco sono incappate in un secondo. Un inseguimento ad alta velocità è arrivato alle porte di Ascoli dove speronati dalla gazzella i malviventi in fuga sono caduti a terra mentre uno di loro è stato bloccato l'altro è riuscito a scappare attraverso un dirupo con una fitta boscaglia che porta al fiume Castellano. Le ricerche andate avanti tutta la notte sono ancora in corso da parte dei militari del comando provinciale. Il soggetto arrestato è un ventenne residente in provincia di Cuneo che portava con sé uno zaino con all'interno un orologio e altri oggetti rubati dall'abitazione di un 37enne Ascolano residente nella frazione di Giustimana. All'interno anche una bomboletta di spray urticante, una radio portatile e diverse arnesi da scasso. Lui si trova ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto con le accuse di furto in abitazione, tentato furto, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e porto di strumenti atti all'offesa. I due carabinieri che hanno bloccato il giovane hanno infatti riportato lesioni varie. Dalle indagini al risultato che i due soggetti hanno compiuto anche due tentati furti nella mattinata di ieri sempre nella frazione Giustimana e sono in corso accertamenti in merito ai furti compiuti la scorsa settimana a Rosara e nella vicina provincia di Teramo.